buongiorno buongiorno benvenuti questa è la sedia stampa di oggi sedici gennaio allora vediamo subito che cosa è successo sui giornali anzi prima dei giornali vorrei dirvi quello che è successo sulla ehm eh d'ostra vita quotidiana che i giornali non potevano prevedere cioè l'arresto dopo trent'anni di latitanza del boss the boss l'ultimo capo della mafia mh eh Mattea Mattia eh Messina Denaro eh stiamo parlando di un uno dei di quei mafiosi che hanno cercato tutti i governi ehm era ricercato numero uno eh in Italia è stato ora portato alla caserma dei carabinieri evidentemente questa è la notizia anche di questa sera vedrete che ne parleremo a quarta repubblica perché è una notizia che è anche un risvolto politico non soltanto di cronaca anche perché questo era il capo dei mafiosi e e non era esattamente l'ultimo arrivato la cosa che mi fa impazzire ma mi fa impazzire è che ehm eh vedete eh il il nel giorno della fiducia di questo governo mi sembra il venti venti due ottobre si alza si alza un senatore del Movimento Cinque Stelle allora se fosse una uno di quei piscuami che è arrivato nel Movimento Cinque Stelle che si prendono stipendio uno qualsiasi io direi vabbè un uno uno di questi grillini lasciate perdere che volete che sia ehm no è un ex magistrato che si chiama Scarpinato si alza e dice che il governo Meloni è un governo sostanzialmente che non ha mai fatto i conti con eh il eh fascismo cioè i gli anni di piombo e che ha un'alleanza tale cioè quella con forza Italia per cui per cui mh non è neanche così a tutto tondo non sarà così neanche a tutto tondo la sua lotta alla mafia compresa quella i colletti bianchi vi ho semplificato questo dice nel giorno della fiducia del governo Meloni il senatore Scarpinato che sia senatore non me ne fotte una ceppa era un magistrato siciliano allora il magistrato siciliano che diventa senatore dice che la Meloni non eh non non farà molto contro la mafia dopo tre mesi il governo Meloni arresta il numero uno della mafia allora io non posso fare due più due però dico se questi grandi magistrati dello stato mafia dello stato porro dello stato ehm eh whatsapp ecco se tutti questi cazzo di grandi magistrati che parlano pontificano e ci raccontano che cosa succede i terzi e quarti livelli avesse fatto un quarto di quello che ha fatto questo governo cioè in tre mesi arrestare il cazzo di numero uno dei mafiosi forse avrebbero qualche merito in più no? Avrebbero qualche cazzo di merito in più questi eh guardate bisogna anche dire le cose come stanno perché non è che Matteo Messina Denaro si arresta in tre mesi arriva la melocca e la melocca la pacchetta magica lo arresta perché evidentemente saranno anni che lo cercano saranno poliziotti carabinieri e anche PM che stanno indagando da mesi e mesi però il piccolo problema sapete qual è? Che non è che è arrivato il giorno dopo che è arrivata la meloni dopo tre mesi quindi sto governo che aveva quest'area che non si sarebbe occupata dei colletti bianchi della mafia eccetera insomma ha arrestato Matteo Messina Denaro e quando lei fa le su Erobe su Borsellino eccetera evidentemente poi qualche cosa ma non dico la meloni dico questo governo chi è che ha fatto le leggi più dure contro la mafia riconosciuto anche da questi qua qua da qua i governi di Berlusconi che vengono considerati ehm diciamo come detto scarpinato vicini alla mafia perché questo vogliono dire vicini alla mafia questi dicono delle cose incredibili io non voglio vedere domani ci spiegheranno che è merito di ingroia ve lo ricordate ingroia quel magistrato che si occupava e che poi si candidò cioè questo è il concetto no? Il concetto che domani sarà molto divertente vedere luce